Tornare in campo sabato, le Panthers Roseto di scena sul parche ostico del basket Roma, però dopo la vittoria col San Raffaele, secondo posto agguentato, meno 4 dalla Stella Azzurra, posso dire che per i play-off al momento siete già con un piede e mezzo dentro. Sì, siamo con un piede e mezzo dentro, però vogliamo finire bene, vogliamo finire nelle prime due della pool promozione, e niente, dobbiamo andare a giocare sabato a basket Roma e sappiamo che non è una partita facile perché sul campo romano non è che facilissimo giocare, però ci stiamo allenando bene, abbiamo un bel atteggiamento e questo è importante. E con cosa vi ha portato il cambio dell'allenatore? Posso dire un po' di aria fresca? Sì, un po' di aria fresca e un altro tipo di gioco, a lei le piace giocare tanto con gli spazi e tanta difesa che mancava in questa squadra e stiamo lavorando bene su questo spazio e difesa e si vede il cambio. Probabilmente vi mancava un po' di difesa perché dall'altra parte sul lato offensivo avete tanti punti nelle mani. Sì, questo sì, siamo una squadra che ognuno può fare i canestri, non è che si dipende di una giocatrice, è una squadra completa per questo. Per quanto riguarda te stai facendo una stagione importante? Sì, penso che perché sono la più grande, sono in quel momento di maturità del gioco dove hai il tuo meglio e quello sto facendo, sto giocando per la squadra e sto facendo quello che posso per aiutare.